La donna di Montereale di 92 anni, ma falda di Cesare, trovata dai carabinieri in stato di decomposizione dopo essere stata nascosta dal figlio Angelo Treniforti per mesi, è morta per cause naturali. Dunque non cambiano i capi di imputazione per l'uomo. Questo l'esito dell'autopsia, disposta dal magistrato per far luce sulle cause della morte della donna di Busci, frazione di Montereale, nell'Aquilano. Un caso che nel comune dell'Aquila ha fatto tanto parlare. Quando i militari infatti hanno fatto irruzione nella casa, hanno trovato in uno sgabuzzino il cadavere della donna sotto ad un lenzuolo. Il figlio ha da subito ammesso, dopo essere stato ricoverato a San Salvatore per aver ingerito ansiolitici alla vista dei militari, di aver continuato a nascondere per mesi il cadavere dell'anziana madre per incassare la pensione. Lui infatti viveva con la madre, nella casa di proprietà della donna. L'ufficialità arriverà più in là, ma l'ipotesi che fosse stato l'uomo ad uccidere la madre era stata scartata subito dagli inquirenti. Angelo Treniforti è stato indagato dunque a piede libero per occultamento di cadavere e truffa aggravata. L'esame autoptico effettuato dall'anatomopatologo Giuseppe Calvisi ha anche dimostrato che la morte risale a circa tre mesi fa. L'uomo di 64 anni, pensionato, incassava una pensione minima, per cui alla morte della mamma ha pensato bene di mettere in scena questo macabre o teatrino, a dare l'allarme alle tre sorelle dell'uomo che non vedevano la mamma da tempo addetta loro a causa dei cattivi rapporti con il fratello stesso. Allertati dai carabinieri, i militari del nucleo operativo radiomobile della Compagna dell'Aquila hanno fatto eruzione in casa, scoprendo il cadavere della donna e sequestrando ovviamente l'abitazione.